Anche lo sport oggi commemora il giorno della memoria, come ogni anno le associazioni ematoriali di ciclisti organizzano una memoria per non dimenticare l'olocausto. Vi lascio al servizio di Stefania Cappa, grazie per l'ascolto e buona giornata. Pedalando nella memoria, un viaggio a tappe nella capitale, per non dimenticare. Partiamo dalla stazione di Burtina, dal binario 1, per ricordare il rastrellamento del ghetto di Roma perché proprio da qui sono partiti i treni diretti ai campi di concentramento quando è stato rastrellato il ghetto della nostra città. Quest'anno la corsa è in modalità diversa, adeguata ai tempi. Aprendo la fotocamera, inquadrando i Q-Code, si apre la scheda realizzata dalle associazioni che hanno creato questa manifestazione in cui si potrà leggere il luogo della memoria che viene rappresentato dal Q-Code. Qui siamo nel ghetto, cuore della comunità ebraica, dove il ricordo si rinnova ogni giorno. Siamo qua proprio per onorare non solo la memoria, ma la memoria come resistenza. La bicicletta, noi di Ruota Libera ce l'abbiamo proprio come simbolo, la bicicletta come simbolo di resistenza, che era il simbolo della staffetta partigiana, delle donne che portavano i messaggi.